buongiorno a tutti benvenuti a questo tutorial su come ottenere la tessera di Torino facile allora questo è un video tutorial sulla fascia di chi vive a Torino, città dove io vivo posso premettere che mi sto informando se altre città, altri comuni hanno una tessera in questo senso vi farò sapere tramite altri tutorial, evidentemente vi farò vedere dei tutorial se ci sarà di questo ok, allora, stiamo andando oltre, scusatemi sono un po' allora, apriamo il browser, ricerchiamo sempre con google la nostra tessera Torino facile ok, andiamo all'home page e come potete vedere Torino facile è una tessera dove sostituisce l'anagrafe quindi possiamo fare tante cose allora, come tutte le tessere, la si deve prima richiedere qua, in questa sezione allora, anagrafe a casa tua, è sempre il tuo turno, richiedi la tua carta qui si richiede la carta e si fa la registrazione, serve documento di identità e codice fiscale e poi vi dirà di digitare una vostra username, un vostro nome anche così inventato, come volete e una vostra password che volete voi e lui vi darà il codice PIN cioè, vi farà la richiesta per il codice PIN perché una volta che voi fate tutto questo, dovete aspettare circa una decina di giorni per avere a casa, via posta, cioè via cartacea, una tessera come potete sentire, una tessera cartacea con praticamente il vostro nome e cognome il vostro numero di carta, cioè questa qui di questa carta qua, cartacea e il CIP, il codice di identificativo personale allora, poi, tutto il resto una volta arrivata mettete la vostra username mettete la vostra password ok e il codice che vi hanno appena spedito così com'è tutto maiuscolo, eh se è maiuscolo se è minuscolo lo copiate proprio così com'è ok e fate invio ah, ancora eh, ma una roba allora questo perfetto ok e facciamo accediamo ai servizi eccolo qua quindi fate le cose con calma qui siete entrati nel vostro nel vostro praticamente servizio come potete vedere vi fate una bella navigata di tutto quanto non è nulla di che potete autocertificazioni fare consultazioni certificati emissioni certificati potete compilato non lo so poi vedremo potete dichiarare già il cambio di indirizzo l'estratto urbanistico presentare le dichiarazioni ICI le visure tributarie pagamento di multe consultazione delle multe la richiesta di attivazione dei ricorsi e tante altre cose veramente veramente utile quindi cosa dirvi ancora spero di esservi stato di aiuto per qualsiasi problema mandatemi un messaggio un'email fatevi sentire e contattatemi cercherò di aiutarvi il più possibile altro non c'è da dire buona navigazione a tutti